Si avvia alla conclusione la prima parte della 43esima stagione concertistica promossa dall'Associazione Musicale Quintieri. Il penultimo appuntamento nella Sala Quintieri del Teatro Rendano di Cosenza ha ospitato una delle più celebri icone del cinema e del teatro, l'attrice Milena Vukotic, protagonista e insieme alla pianista Angela Annese dello spettacolo Dissolvenze Incrociate. Dissolvenze Incrociate è una serata dedicata al cinema, alla letteratura e alla musica che Angela Annese ed io portiamo avanti per far conoscere al pubblico e per cercare di unire sempre di più la musica e la letteratura. Madame Bovarino non era mai stata così bella come di quella indefinibile bellezza che viene dalla gioia, dall'entusiasmo, dal successo. I versi e i testi intrecciano, possiamo dire, sia l'ambito letterario con Flaubert ma anche l'ambito cinematografico perché alcuni di questi testi sono stati utilizzati anche in opere cinematografiche come le colonne sonore che affiancano la recitazione. Una stagione varia dove abbiamo dato spazio al canto operistico, al jazz, alla musica da camera, alla musica solistica. Chiuderemo dopo questo concerto a giugno con il concerto sinfonico e il grande pianista Inchef che seguirà il concerto 466 di Mozart. È una linea culturale che in Italia adesso stanno abbracciando molti organizzatori, molte associazioni storiche, quella di dare spazio a tante forme d'arte ed è sicuramente una scena giusta e condivisa da parte nostra. Quindi siamo nel solco di ciò che accade anche nelle grandi capitali culturali italiane ed europee.